Il Murano Bialop Circulate il Murano Musica Il Murano il omina la prima si icia l romio Gentlemen Il vetro di Murano si fa usando una composizione simile a sabbia, fatta da tre rami, sabbia cilicea, calcio, soda che diventa trasparente. Per i colori mischiano ossidi, quindi in aspetto di polvere, e altri minerali evitabili. L'esempio più facile è il cobalto che diventa blu, poi c'è il più particolare che è il rosso al vino, è il rosso scuro rosato che viene fatto con oro, 24 caratti, un po' più costoso anche. Per fare il Murano Glass è usata una composizione che sembra come sand, fatta da tre minerali, silica sand, calcio e soda che diventa trasparente. Per i colori mischiano l'oxid, come powder, di altri minerali e metalli. L'esempio più facile è il cobalto che fa blu. Il più particolare è il rubin rose, che è un pinkish dark red, fatto da 24 caratti gold, che è un po' più più facile. Per lavorare, devono stare dentro al forno per una notte intera a mille, mille, tre cento gradi. Basta, mi entrare. So, the compositions, to melt, to become workable, per una notte intera a mille, per una notte intera un po' più grande, per una notte intera per la temperatura di 1,300 celsius. Nucce altro? Cosa usare un po' più grande, magari? Sì? Ok, 1,300 celsius è circa 2,300 celsius. in faranite. Non loro lo stai. Gli spegono solo ad agosto perché è il mese più caldo dell'anno. Ok? E così tutti a Murano bloccano la produzione per i mesi di agosto. So, quando lavorano, anche ora, la temperatura dell'oven deve restare a circa 1,100 celsius. 2,000 celsius. Weiss! The owens are heated by gas, cause they need the flame to work, and they cannot turn it off, cause it takes more than 5 days to reach the temperature. Poi si tratta solo a nubes, perché è il composto di uno anno e praticamente tutti i animali non produce. Tadà! Wow! Fate una foto perché tra poco si rompe. E non scherzo. Perché quando lasci dentro l'aria diventa freddo troppo rapidamente. E c'è uno shock termico. Dopo il stevo com'è si è raffredda. So I suggest you to take a picture of the bud. Because in a few it will break. And I'm not joking. Because when you lift the glass in the room, it becomes cold to not quickly. And there is a thermal shock. So when they finish to work on the piece, they have to put it immediately in the green oven at the corner there. The alarm from 500 celsius, 900 celsius, the temperature of the glass, goes down minimum in 10 hours. Until the temperature of the moon. Da 5 celsius gradi, the temperature in the centro, 100 celsius, in 10 degrees. Minimum naturalmente. E invece questa è la tecnica della scultura. E questa è la tecnica della scultura. E questa è la tecnica della scultura. E questa è la scultura. è felice. Grazie a tutti Grazie a tutti Oh my god He's also specialised on chandeliers and lamps And everyone is specialised on something It's very hot So like I said it's 500 Celsius And to talk for the demonstration is everything And thank you very much Grazie mille Bravo Fabio Bravo Not your color Not like the color Italian design is very nice Italian design How about what? How about what? How about what? Grazie a tutti.